Io sinceramente a voi migrati volevo dire una cosa. Se volete mangiare il kebab, ve lo mangiate a casa vostra, sui miei cammelli e le vostre mogli che indossano il burka. Cioè noi quando siamo stati all'estero, non è che ci hanno accolto col cornetto gratis il cappuccino. Non so se ci siamo capiti. Io ho un figlio che va a scuola, e questo è un compagno di banco che è marocchino. Cioè io ho paura. Se questo si porta ai mortaretti, vengono giù tutta la scuola. Non so se ci siamo capiti. Te hai emigrato, no? Che vieni qua in Italia. Devi rispettare le nostre leggi. Devi mangerti la porchetta. Ti capi? Cioè questi qua in un paese civile li avrebbero spediti a casa e calci nel sedere. Non so se ci siamo capiti. Oppure dobbiamo agire con la ruspa. Grazie. 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 Grazie.